Governo tecnico, innanzitutto la Costituzione non lo prevede, i tecnici puri in questo Paese non ci sono, i tecnici in questo Paese sono incardinati in un sistema politico e parapolitico, i poteri occulti o manifesti di interessi o di pressione o di lobby e che una volta erano solo nazionali, adesso sono nazionali ed internazionali. Chi sono i poteri oscuri di cui parla Rino Formica e chi li rappresenta in Italia? Più volte ministro della Prima Repubblica, Formica teme che un eventuale governo tecnico possa mettere in vendita le aziende ancora controllate dallo Stato, portando a compimento un processo cominciato il 2 giugno 1992. Che succede quel giorno del 92? Il Britannia, il panfilo dei reali inglesi prestato a una lobby di finanzieri anglo-americani, chiamata gli invisibili, attracca Civitavecchia e ospita i vertici dell'industria della finanza italiana. C'erano anche Mario Draghi e Giulio Tremonti. Cosa volevano gli invisibili dall'Italia? Volevano mettere le mani sulle banche, sull'Enel, sulla telefonia e sull'Enel, cioè sui gioielli di casa. Il Britannia al fondo cos'era? La politica passa in secondo piano, domina l'economia e la finanza. Il sistema politico di questi 20 anni ha accettato l'idea della subalternità della politica all'economia e alla finanza. Detto in altre parole, oggi non sarebbero i capitani coraggiosi nostrani ad entrare in possesso dei gioielli di famiglia, e cioè Eni e Enel e Finmeccanica, ma i finanzieri internazionali. Se lo spread continua a salire, l'Italia avrà sempre più difficoltà a trovare i fondi per pagare stipendi e pensioni, dovrà vendere, come già richiesto, peraltro, dalla Banca Centrale Europea. I francesi e gli anglo-americani sono interessati all'energia e a Finmeccanica. Basti pensare alla guerra per accaparrarsi i contratti in Libia o agli accordi con la Russia che tanto hanno irritato Washington. I tedeschi, invece, puntano alle banche italiane. Chi fa operazioni di acquisto per via di rapina non lo dice mai prima. Sicuramente si sta creando una condizione psicologica favorevole ad una rapina nelle banche italiane. Chi sono i rapinatori? Poche settimane fa, nel silenzio generale, le autorità bancarie europee hanno fissato nuove criteri di valutazione del capitale delle banche. E indovinate quali sono gli istituti più penalizzati da questa svolta tecnica. Sono tutte banche tricolore. Ma ora alla guida della BCE non c'è un italiano? Chi è Mario Draghi? Il problema non è chi è Mario Draghi. Chi lo ha messo lì? Qualcuno lo ha messo in punti e in posti e in posizioni da poter influire sull'ordine politico e sociale. fu candidato della Germania, il paese che avrebbe dovuto avere più timore di collocare in quella posizione un italiano. Si vede che nelle sue valutazioni la signora Merkel valutò che era prima tedesco e poi italiano.